Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Days Gone, che vedete qui dietro di me sullo schermo, e tra l'altro ringraziamo di cuore Sony Italia per avercene fornito una copia digitale per la recensione. Grazie ragazzi, voglio cogliere un attimino l'occasione davvero per ringraziarvi di cuore. È un onore, non ci aspettavamo nemmeno una risposta, proprio se devo essere sincero. Però ci avete risposto non solo, ci avete dato una risposta positiva, ma anche tempestiva, e ci avete mandato subito una copia per la recensione, una copia digitale. Quindi grazie Sony Italia, grazie davvero di cuore, speriamo che possa essere l'inizio di una buona collaborazione. Vi dico subito che non è una recensione del gioco, ovviamente un cosa ne penso come li faccio sempre io, e vi dico anche subito che il gioco a noi, a me e mia moglie, è piaciuto da morire. Quindi la valutazione finale sarà sicuramente una valutazione positiva. Però ci sono degli aspetti del gioco che personalmente mi hanno convinto un po' meno. Non è che siano brutti, però sembrano un pochino abbozzati, forse ci avrebbero potuto lavorare decisamente meglio. E poi un bug madornale che abbiamo trovato la prima volta che l'abbiamo giocato, che poi vi elencheremo. Intanto, come potete vedere direttamente dalla schermata del gioco, il nostro protagonista girerà a bordo di una moto. E secondo me è la trovata geniale che hanno avuto, un po' ispirandosi precedentemente al gioco di Mad Max. Se vi ricordate dove la macchina era la cosa più importante per girare il Wasteland. E qui uguale per Deacon, per girare l'Oregon servirà alla moto. La cosa bella è che questa moto ha la stessa utilità ed importanza della macchina di Mad Max o del cavallo di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2. Perché questo sarà il vostro unico mezzo di trasporto, ma soprattutto di salvezza dalle orde nei momenti proprio bui dell'avventura. La storia narra di Deacon St. John, che è il protagonista, e narra l'inizio dell'Apocalisse e ci fa vedere all'inizio che lui sta scappando insieme a un amico, perché loro sono nomad di una banda di motociclisti, che se non erro, tra l'altro, correggetemi se sbaglio, i nomad dovrebbero essere appunto nomadi, esuli, senza banda, qualcosa del genere, che non si muovono con un gruppo vero e proprio, come potessero essere gli Hells Angels. E l'avventura inizia che ci fa vedere questi due amici e la ragazza, la moglie, di Deacon, che praticamente viene ferita da questi zombie, insomma, che poi sembrano tanto quelli di World War Z, ma forse di più Io Sono Leggenda, perché questi un pochino temono la luce del sole, sembrano quasi più i vampiri, vampiri zombie, tra virgolette, di Io Sono Leggenda. e la moglie inizialmente verrà ferita e verrà portata via dalla Nero, che la Nero è una forza governativa, un po' tipo l'Umbrella, se vogliamo, e sono quelli che praticamente hanno preso le sorti dei sopravvissuti, l'hanno portati via, dalle città ovviamente contagiate, hanno bombardato, hanno distrutto, ma sembrano anche una forza d'oppressione, classico poi in questa ambientazione qua giù, Apocalisse e zombie, vedere queste forze governative che dovrebbero difenderci, e invece poi dopo fanno di tutto per prendere questi zombie e vedere se riescano a farli diventare un'arma bellica. Quindi all'inizio da una forza di aiuto a una forza di oppressione. Vabbè, questo è un cliché classico in questa ambientazione qui. Cosa importantissima del gioco, quindi teneteli maggior cura, e poi ora vi dico una cosa di più, alla moto di Deacon St. John. A un certo punto il gioco non è un open world, però è abbastanza guidato, non è sicuramente un GDR, per quanto abbia la possibilità di dare skill di sopravvivenza o di combattimento melee o con armi da tiro, dalla distanza, Deacon, però la cosa più importante è la moto. Infatti il gioco, non ve lo spoiler ovviamente, vi metterà a un certo punto davanti a delle scelte, no a un certo punto, in certi punti prestabiliti, e vi dirà, volete aiutare questo accampamento a questa persona ed avere delle armi migliori, o volete aiutare quest'altro accampamento, l'accampamento B rispetto all'accampamento A, e avere dei potenziamenti alla moto? Ragazzi, la moto in questo gioco è la vostra unica salvezza, quindi, io almeno me la sto giocando così, e sono già un bel po' di ore di gioco, levelate la moto al massimo livello, perché è la moto che vi salva il culo, nel vero senso della parola. Ah, tra l'altro, piccola parentesi, giustamente mi ricordo mia moglie, molti si sono lamentati, che lo vedete anche dal video, è un po' pesante, è un po' poco reattiva la moto, a parte che giustamente, provate a guidare la moto da Arvivo, e ditemi se riuscite a fare il flash della situazione, però la moto è abbastanza pesante, cioè proprio te lo fa sentire il peso ed è poco reattiva. Ragazzi, non vi preoccupate, perché già giocate 3-4 ore, sbloccate i primi upgrade per la moto, la situazione cambia, e poi dopo diventerete davvero il maestro del motocross e dell'enduro. È normale, inizialmente, la moto fa schifo, non ha comunque tutti quanti gli upgrade, e anche, magari dico, non è il massimo dell'esperienza nel portarla. Più avanti che andrete col gioco, imparerete proprio a portarla a dovere, non avrete più assolutamente nessun tipo di problema. Sistema loot del gioco. Il sistema loot del gioco, secondo me, è la parte giusta, perché ora ve lo dico, però anche leggermente più povera, perché il gioco, loro l'hanno detto, quelli che hanno creato Days Gone, si ispira al 100%, l'hanno detto, non hanno fatto, non si sono nascosti, a State of Decay, in particolar casa State of Decay 2. Infatti il combattimento in corpo a corpo, ragazzi, identico, spiccicata, anche le capriole per schivare, le armi che dopo un tot si rompono, il combattimento è State of Decay, uguale. Quindi non vi dico assolutamente niente di più, che l'abbiamo trattato anche sul canale. Però il loot, come vedete, è risicato. Occhio, siamo in un'apocalisse, quindi è normale che la roba non ci sia più a giro. Siamo tutti d'accordo. Però non è per forza trovare una barra di legno per piccare qualcuno, da mangiare, oppure trovare un'arma da fuoco. Il loot, ragazzi, per chi vive nell'apocalisse, che va a girare per i rifiuti, nei vreck, è anche trovare una bottiglia di plastica. Magari, che le so, fu uso con dello scotch per fare un silenziatore. Trovare anche semplicemente, perché no, dei fili di ferro, dei fili di rame per fare da conduttori, c'è carta stagnola, tutto. Anche la roba che un tempo si buttava via, gomma, in un'apocalisse del genere, è materiale di scambio, o anche materiale di costruzione e sopravvivenza. E invece qui ne trovi poco. Cioè, entri dentro un palazzo, mi è capitato di entrare dentro un palazzo di due piani, un centro commerciale immenso, ci ho trovato una bottiglia, una mazza da baseball, un'accetta e un caricatore per la pistola. Cioè, si trova più loot dentro le macchine, ad esempio. Dentro le macchine, aprendo i motori, trovate pezzi per parti elettriche o parti meccaniche. Invece, aprendo il bagagliaio delle auto della polizia, sarete sicuri di trovare o armi da fuoco o comunque proiettili per le vostre armi. Il gioco ha una... Ora, magari il video è un po' scuro, speriamo si veda, sì, ora forse già un po' di più. Ha una componente stealth. Per quanto, ragazzi, è un po' la componente stealth di Sekiro. Alla fin fine molto basilare, molto leggera, non è sicuramente un Tenchu o un Tiff, però comunque è una buona componente stealth, come potete vedere in questo momento qui, che tra l'altro mi hanno sgamato, come vedete, se vi fate sgamare in certe zone. Ecco, forse questa è la cosa che mi è piaciuta leggermente meno, perché ci sono delle zone scriptate che se vi beccano non è che potete scappare, provare a combattere, ma siate morti. Comunque, come vedete, il gioco ha una variante stealth ed è, per quanto sia molto leggera, secondo me è carina, perché vi dà la possibilità di affrontare le orde di non morti, di zombie, di infetti, perché ce n'è davvero, ragazzi, ce n'è che voi non avete idea, o affrontare i singoli nidi che dovete distruggere con le molotov o gli infetti in modalità completamente stealth. Quindi, senza che nessuno vi veda, potete liberare completamente un piccolo avamposto, un villaggetto e andare avanti. Quindi questa forse è la parte in assoluto, per me, una delle parti venute meglio del gioco. Come vi dicevo, arriva la parte in cui bisogna distruggere i nidi. Voi prendete una molotov, la costruite, sono questi tipi o rampicanti, sembrano i nidi messi tutti quanti insieme, vitici, li distruggete, appena li distruggete usciranno delle piccole orde, di solito sono massimo 4-5, non di più, ovviamente un nido e mezzo potrebbero uscire neanche 20, e al momento che avrete distrutto il nido, il gioco vi darà dei punti, vi dirà hai liberato completamente l'aria, quindi la prossima volta che ci tornerete non ci saranno più vaganti, o ce ne saranno di meno, uno o due perché arrivano. Ah, le zombie in questo gioco ci sono, non è che alla DayZ sponano quando voi arrivate in una zona, ci sono, quindi se è realmente una mandria di zombie, se avvicini di infetti, li chiamo zombie, vabbè tanto quello sono, alla fine fine, tra l'altro vedete il sistema di combattimento alla mia mira, veramente a Briao, le mandrie di zombie, di infetti, quando si sposteranno, ci sta che passeranno a un punto preciso, quindi non sono calcolate, si spostano anche per il suono che sentono e tutto, e come vedete il sistema di combattimento e soprattutto la bonifica di questi nidi degli zombie, alla fine fine di queste aree infette, ragazzi, il gioco veramente non ti dice niente di nuovo, è bello, però non ti dice niente di nuovo perché è state of decay, guardate la capriola e l'attacco in corpo a corpo fino a che poi dopo l'arma magari non si rompe, perché le armi hanno una durata come vedete qui in basso, ragazzi, il gioco è veramente state of decay. La storia è interessante, per quanto non sia un capolavoro, cioè non è che non è un capolavoro, la storia è bellissima, ok? Niente di meno di The Last of Us e cose del genere, però è tutto un susseguirsi di cliché, cioè cose già viste, che poi in un apocalisse ha inserito un romanzo, giorni di sangue, su questa roba qui zombie, anche il mio, è tutto veramente un nido, un covo di cliché, ma è normale, quando vai a toccare questa ambientazione qui, è normale che, come viste in film, in opere, in cartoni animati, in romanzi, in fumetti e quant'altro, anche e soprattutto in videogiochi, ci sono dei luoghi comuni e quello, ovviamente, non ci si può fare niente. Ci sono, in giro per il mondo, collezionabili. Una parte importantissima del pacchetto e dell'avventura è il fatto che dovete potenziare la moto, potenziare il personaggio, trovare collezionabili, perché ci sono collezionabili permanenti, che una volta trovati sono tipo delle iniezioni che vi danno, praticamente, dei bonus al personaggio. Quindi quelli rimangono, bonus alla vita, bonus alla forza, quello te lo inietti, scegli te dove lo mette, dei tre o quattro punti, mi sembra che ci sono, e ovviamente daranno un potenziamento a Deacon. Personaggio, tra l'altro, fatto molto bene, caratteristico, a differenza di altri giochi, mi piace che anche a volte cammina e mormora un po' tra se e se, vedi che è pensierosa, ha sempre questo tono molto basso, non è assolutamente un Joel, questo è un anti-eroe. Sì, ovviamente non è un personaggio cattivo, però è un personaggio che se ti deve sparare un colpo di fucile a pompa in bocca a una donna è un bimbetto, non si fa assolutamente scrupoli, è un bel personaggio costruito molto bene, l'unica cosa forse che non mi è piaciuta, vi ricordate in The Last of Us quando c'era Ellie che iniziava durante le fasi stetta a correre davanti ai nemici e i nemici non la vedevano perché dovevano vedere voi, se no il gioco sarebbe diventato impossibile per l'intelligenza artificiale un po' stupida dell'epoca. Qui uguale, di Icon c'ha sempre una radio qua sopra con cui parla con quelli al campo base e il suo amico e a volte si è nascosto dagli zombie dietro, commerciale se lì è nascosto di una tavola calda ti chiamano alla radio lui parla alla radio sottovoce già lì bello però si sente forte quello che ti parla alla radio e gli zombie ti passano davanti e non ti vedano. Ecco quello magari avrebbe potuto farlo che quando succedevano queste cose magari premi quadrato premi un tasto magari lui fermava la radio perché se no gli zombie ti sentivano. Ecco sicuramente avrebbe favorito molto di più all'ambientazione perché le chiamate radio quando ti arrivano te non lo sai cioè chi ti chiama non è che sa che magari sia nascosto e rischi la vita e questo potrebbe essere una cosa in più quindi forse i lati negativi sono stati un po' quelli e la parte più negativa di tutte che ci è toccato andare su facebook a domandarla della gente perché non si capiva come andare avanti scarichiamo il gioco ci mettiamo un'ora e mezzo il gioco e lasciamo la playstation il gioco è pronto oh finalmente non vediamo l'ora di giocarci mia moglie andiamo a giocare scompare la roba i nemici si baggano c'è un'arma per terra vai per prenderla ti sparisce un omino della missione inizia a correre contro il muro ti toccare avviare la missione no c'è buggata a questa maniera no il gioco ce n'ha un po' di bug però ce n'avrà uno o due non è buggato per niente funziona perfetto il problema è che il gioco una volta non è che ti dice l'installazione è sempre in corso puoi già giocarlo no lui ti dice installazione completata cioè perché te l'ha scaricato però poi piano piano te lo devi installare quindi lui ti dice installazione completata te vai a giocare e arrivi a un certo punto che non puoi più andare avanti perché il gioco ti blocca con un errore e te non sapendo come perché ripeto l'abbiamo chiesto su facebook devi andare nel vai sul download e ti dice download completato vai in informazioni invece ti dice sì download completato però siamo all'installazione di 20 giga su 60 e quindi te ci rimani un po' così meno male che ce l'ha detto qualcuno perché io e mia moglie stavamo già per scrivere a sony dicendogli ma che è successo è una copia difettata come mai il gioco non va avanti ecco quello magari ci dovrebbero stare un pochino più attenti come pulizia generale del prodotto la mappa è immensa ragazzi quindi ci perderete veramente la storia del gioco può durare sulle 40-50 ore ma se come me vi mettete ad esplorare tutto che io arrivo in un villaggio ci sono 5 case più una chiesa giro le 5 case prendo la moto e vado via mi sento male devo tornare indietro perché non ho ancora visto cosa c'è dentro la chiesa vi durerà anche più di 100 ore è un gioco virtualmente immenso è un gioco molto bello la storia vi prenderà assolutamente tanto poi più che altro per capire cosa è successo alla moglie di Deacon e un bel personaggio colonne sonore praticamente non ci sono quel po' che ci sono sono soltanto di sottofondo il background ed atmosfera e la parte secondo me più riuscita di tutte è la moto come la macchina di Mad Max che dovrete tenere sotto controllo forse la paura che potrebbe diventare alla lunga leggermente ripetitivo però State of Decay è un gioco online che alla fin fine non ha storia fa sempre le certe cose questa avendo la storia secondo me è molto più difficile che diventi un gioco un gioco noioso comunque se devo dare un voto a Days Gone gli do assolutamente 8 su 10 passata a pieni voti ve l'ho detto avrei potuto dargli un 8 e mezzo perché forse c'ha quei baguettini quel fatto del loot che ripeto il loot non vuol dire trovare un bazooka che uno potrebbe dirmi ma sei un apocalisse poi trova mitra da mangiare no però ripeto anche una scatola di plastia ma qualsiasi cosa usa carta cartone ferro c'è anche piombo qualsiasi cosa può servire capito per la sopravvivenza per farsi una base per farsi anche un equipaggiamento migliorabile quindi mi avrebbe dovuto far lootare un po' di più perché lo vedi per terra che c'è pieno zeppo di plastica che soltanto portandola via tutta quanto ci fa una busta immensa o anche ferro perché no portare via lamiere cose del genere staccarlo dalle coperture cioè sono cose che uno ci può fare tanto in un'ambientazione del genere e oppure anche semplicemente perché no si sono dimenticati forse di metterci un po' mangiare e bere ora ho capito che non è un gioco survival però sarebbe stato interessante tra l'altro guardate qui la mia mira oh strano questo l'ho ammazzato vediamo quest'altro questo di solito quando è uno solo ah un'altra cosa che forse mi è piaciuto un pochino meno però cambia perché come mettete due o tre skill cambia del tutto all'inizio avete il coltello che è infinito come state of decay però cioè gli ho dato 80 coltellate ragazzi gliene avrò date 10 coltellate a quello zombie lì di conna ma cioè ho capito che non sono zombie sono infetti quindi se li sparate un colpo muoiono però potevi darglielo subito un testa al cuore da qualche parte 70 coltellate così a caso però come vi mettete un po' di skill poi la situazione cambia in conclusione ragazzi un gioco in esclusiva Sony che ringraziamo Sony Italia per avercene fornito una copia da avere assolutamente quindi 8 su 10 passata a pieni voti e secondo me è una figata bellissima e sono sicuro che è un gioco che come The Last of Us ci rimarrà nel cuore e nella testa per tanti anni e verrà ricordato per tanto tempo io spero che diventi un brand spero che dopo di questo decidano magari di fare un Days Gone 2 ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate con un commento e il link trovate ovviamente tutti i nostri social il link per la live perché sono tornato su Twitch tutte le sere a fare live e soprattutto il link per acquistarlo può comunque digitale andate sullo store sul PS Store lo trovate e lo comprate perché ragazzi è un gioco che non vi deve assolutamente mancare per me è passato promosso a pieni voti ciao ragazzi alla prossima a tutti i nostri sociali a tutti i nostri sociali Grazie.